Qualche settimana fa ho pubblicato un video all'interno del quale parlavo di questa tematica. Lei mi guarda le storie. Come mai mi guarda le storie? Come interpretare il fatto che lei mi guarda le storie? Bene, quel video là è andato molto bene e ho capito che c'era la necessità di fare chiarezza su questo argomento. Il problema è che poi è nata un'altra faccenda, del tipo Teo, ma se mi scrive che cosa faccio? Ho detto, vabbè, dai facciamo un video anche su questa roba qui. In qualche maniera si assomigliano, però di base abbiamo la necessità di, a quanto pare, entrare anche in questa dinamica. Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista della ex. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Innanzitutto, la cosa sulla quale noi dobbiamo fare chiarezza prima di entrare nel vivo del nostro argomento è capire in che situazione, in che distacco sei. Sei benissimo, e se non lo sai ti invito a cercare su questo canale gli altri 150 triliardi di video che ho fatto sull'argomento. Esistono due tipologie di distacco. C'è il distacco parziale dove tu, per forza di cose, devi interagire con l'altra persona, perché magari ci sono figli, perché magari lavorate insieme, siete soci della stessa azienda, perché dovete sbrigare delle questioni burocratiche. Insomma, distacco parziale significa che io con l'altra persona devo, per forza di cose, interagire. Non posso scomparire così da un momento all'altro. Mentre dall'altra parte, chiaramente, c'è il distacco totale, dove io e l'altra persona possiamo tranquillamente non sentirci da qua a tempo indefinito e va comunque bene. Questa dinamica del cosa faccio se lei mi scrive, immagino sia più incentrata sul distacco totale, perché chiaramente nel momento in cui l'altra persona, se sei in un distacco parziale, ti scrive per delle cose necessarie, lì in quel caso rispondi in maniera formale a quello che lei ti sta chiedendo. Fine del video, cioè fine della questione. Se ti chiede delle cose più sul personale, tu non rispondi. Fai finta che quella cosa lì ti ha colpito ma molto di striscio e cerca di essere assolutamente vago nelle tue risposte. Passando poi all'aspetto del distacco totale, c'è da aprire una parentesi un po' più elaborata. Cioè, dobbiamo fare una bella differenza tra quello che è il distacco totale che deriva da una separazione emotivamente impattante, quindi dove c'è stato un dramma dietro, dove c'è stato grida, urla, piatti rotti e cose di questo genere, è un distacco totale che arriva e proviene da, in qualche maniera, una separazione pensata a lungo, ok? Quindi la separazione di per sé in questa condizione non è stata così alta a livello emotivo, ma è stata una separazione normale dove lei in maniera molto fredda, molto distaccata, dice guarda, amico mio, non abbiamo più un cazzo che fare l'uno con l'altro, quindi mandamossi a cagare. Il punto è questo, partiamo dalla prima situazione, mi sono lasciato con lei e la separazione è stata una separazione fortemente emotiva, molto intensa, lacrime, insulti, toni di voce che hanno rotto le finestre, grida, ci siamo presi a botte, mi raccomando. Però di base c'è stata un'interazione molto molto forte tra di noi, quindi il distacco che ne deriva totale è un distacco che probabilmente verrà interrotto dal fatto che lei comincerà a insultarti, comincerà a insegirti nel dirti che non vedi, avevo ragione nel dire che sei un pezzo di merda, ma tu mi volevi riconquistare, tu mi amavi che non mi hai manco scritto. Ok, quindi ti arriveranno un sacco di provocazioni potenzialmente da questo punto di vista. In questa faccenda, nel momento in cui lei ti contatta cercando di girare il dito nella piaga e nel momento in cui c'è questo pregresso, è molto importante che tu prendi il telefono, visualizzi, spunte blu e non rispondi. Fine della faccenda. Tu non rispondi a quel tipo di comunicazione. Mai. Ok? Sei tu che in qualche maniera prendi responsabilità della comunicazione quando tu ti sentirai meglio. Ok? Quindi nel momento in cui tu ti avvii verso quella direzione, è assolutamente importante settare la linea guida, cioè io non ci sto a sta roba, non ci sto. Punto. Fine. Ok? Quindi è importante questo. Passando dall'altra parte, se l'altra persona si fa sentire per delle motivazioni che possono anche essere molto stupide, se ti scrive che fai, come stai o cose di questo genere, in quel caso ha senso rispondere, ma ha senso rispondere con delle risposte estremamente vaghe. Cioè l'altra persona non deve capirci un cazzo, non deve capire tu che cosa stai facendo, dove stai andando, come sta andando la tua vita, come stai tu per davvero o cose di questo genere. Lei si deve guadagnare il diritto di entrare in intimità e in profondità dentro di te. Non è un diritto che lei ha perché esiste, perché c'è la fregna, no? Se la deve guadagnare questa cosa e deve in qualche maniera sbattersi per rientrare in contatto con te. Quindi metti delle tempistiche lunghe, quindi non farti vedere subito preso dal messaggio, cerca di elaborarlo molto bene il messaggio, soprattutto nel momento in cui manteniamo la comunicazione via chat. Questa cosa è fantastica perché io posso guardare il messaggio, mettere il via al telefono e posso riprenderlo dopo un'ora e rispondere perché ci ho pensato a quella roba, ok? Quindi questa è un attimo la situazione. Ora, io lo so che questo ti fa un po' paura, tipo, a cazzo teo ma non risponderlo, oppure no fare il vago, magari lì in quel momento l'è interessata, no? Perché io non apro i rubinetti e perché non mi posso far vedere in quel determinato modo? Per il semplice motivo che devi alimentare la curiosità nella sua testa. Fine. Molto semplice. Devi alimentare la curiosità, devi alimentare l'interesse. Ma perché lui mi sta rispondendo così? Ma perché fa il vago? Ma perché puntini, puntini, puntini? Perché bisogna creare questa dinamica nella sua testa. È molto importante tutto ciò. Quindi se ti scrive e sei in un distacco parziale, e lì bisogna attimo vedere cosa ti scrive, perché se sono cose necessarie, cose di cui bisogna parlare, va bene. Se ti scrive quando sei in un distacco totale, cerca di capire, ma io mi sono lasciato con alte emozioni, alta intensità, o c'è stato in qualche maniera una liberazione da parte sua? In entrambi i casi c'è da valutare molto bene. Quindi se sei in quella situazione là, dove c'è stata alta intensità, evita, evita, lasciala lì. Questa cosa la farà incazzare? Sì, tantissimo. Bene, ottimo. Perché significa che sta, in qualche maniera, emanando delle emozioni forti nei tuoi confronti. Ok? Quindi, spero che questo video ti abbia fatto un po' di chiarezza nella testa. Se ti interessa, puoi andare direttamente qua e capire, quello che dicevo all'inizio, il video famoso del che cosa fare se lei ti guarda le storie. Quindi vai a vederti questo video se sei interessato. E mi raccomando, non fare stronzate.